La misura nuove imprese a tasso zero è un incentivo che ammoderna notevolmente il precedente strumento che è il decreto legislativo 185 del 2000, titolo 1, capo 1, fondamentalmente ha come target di riferimento non soltanto i giovani ma anche le donne di qualsiasi età. Come ha risposto il territorio di Paola a questa vostra iniziativa? Siamo rimasti favorevolmente sorpresi ma non perché Paola non abbia le carte in regola per dare dimostrazione di interesse per questa tipologia di iniziative ma nella fattispecie oggi trattandosi di un workshop tematico di lavoro quindi molto tecnico, probabilmente ci saremmo aspettati numeri un pochino inferiori. Oggi l'aula era piena come avete potuto constatare ma ciò che poi ci ha favorevolmente sorpreso è ciò che è avvenuto dopo l'evento in plenaria perché dopo il workshop territoriale abbiamo effettuato una serie di incontri one to one con gli aspiranti beneficiari delle agevolazioni che numericamente sono stati piuttosto elevati. Salvatore Bruno per la Cinews 24 Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille!